Presidio dell'Unione Sindacale di Base dinnanzi alla Prefettura di Taranto per sottolineare ancora una volta la posizione dura del sindacato in merito alla delicata vicenda ex-ILVA nella giornata in cui si tiene l'ennesima assemblea dei soci di Acceierie d'Italia. Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori della Sanac, lavoratori di un'azienda d'appalto ILVA che si occupava di riflattari storica che purtroppo a breve si capisce che la stanno facendo fallire. Questo perché in passato la Sanac chiedeva il pagamento di alcune fatture scadute e chiaramente Acceierie d'Italia infastidita da questo gesto ha deciso di farla fuori. E' chiaro che è paradossale questa situazione che un'azienda di Stato faccia fuori un'altra azienda di Stato e noi non accettiamo alcune logiche. Profittando anche di questo momento noi stiamo dicendo e stiamo consegnando un documento in Prefettura per chiedere un atto di coraggio a questo punto da parte del Governo e cercare di stabilire un punto zero e prendere un atto di coraggio nella valtenza ex-ILVA. L'Unione Sindacale di Base inoltre fa sapere che proseguirà su questa strada e con questo spirito sta organizzando una grande manifestazione nazionale a Taranto per il prossimo 20 gennaio.